Vice capogruppo Paolo Tosato, qui nasce un comitato adesso a margine del risultato stupefacente anche di questo referendum digitale, comitato per il veneto indipendente. Esatto, che cerca di unire le forze. Noi abbiamo la preoccupazione che a fianco alla grande partecipazione della gente su questo argomento ci sia la tentazione di rappresentanti politici dei vari schieramenti autonomisti di rivendicare la priorità in questa battaglia. In questo momento bisogna tralasciare, mettere da parte le nostre divisioni. Troppo spesso le divisioni tra i movimenti autonomisti e indipendentisti hanno causato la sconfitta di queste battaglie. Bisogna unire le forze, capire che l'obiettivo non è quello di raggranellare qualche consenso elettorale in più, ma è quello di unire le forze perché il referendum, la legge venga votata in Consiglio regionale Veneto e poi il referendum si realizzi. Questo è il motivo che ci porta a sostenere un comitato che ha questo spirito.